Ehi, ciao! Che piacere vederti! Sono contento che ti sia venuto a me questa sera. Abbiamo lo stracchino Zani. Scade fra quattro giorni. L'ho scelto apposta perché so che ti piace lo stracchino che sta per scadere. Guarda lo scarto! Che bella serata, eh? La sera, i gattini, Padre Pio, i vicini che parlano in alta voce. Che bello stracchino, quanto è molle. Senti quanto è molle. Si è praticamente liquifatto. Guarda quanto è liquido! E' proprio come piace a te. La consistenza è perfetta, un 5. A prova. La sapidità manca di qualcosa. Ma è davvero buonissimo. Mmmmm. 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 Alla sapidità gli diamo un 3. Mmmmm. 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 La dolcezza gli diamo un solito 4. Molto buono questo stracchino. Mmmmm. 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 Daudici punti su 15. Mmmmm!! Mmmmm. 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 Con... ... ... dodici punti su 15 questo stracchino si posiziona molto bene. Non era perfetto ma sicuramente era un ottimo stracchino che mi ha fatto deliziare della vostra anche compagnia questa sera Ciao a tutti, io come sempre sono Vlad, non sparo e non so niente Ci vediamo alla prossima